Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Ossola per la gentile presentazione e prima di cominciare consentitemi di ringraziare gli organizzatori di questo colloquio, la professoressa Irène Rosier-Cattache, il professor Pasquale Porro e il professor Jean-Baptiste Brené per l'invito e per la gentile e calorosa accoglienza e naturalmente il professor Hollande Libera, cui dobbiamo l'incanto di essere qui, in questo luogo meraviglioso, in questo casa della scienza, per così dire. E comincio senz'altro la lettura del mio intervento, aggiungo ai ringraziamenti, un ringraziamento particolare al pubblico qui presente, che avrà la bontà e la pazienza di ascoltare il mio intervento in italiano, ma di questo intervento della mia relazione è disponibile una traduzione in francese, quindi chi non l'avesse può procurarsela, credo, agevolmente. La scrizione di Donna me prega, la solenne e ardua canzone di Guido Cavalcanti sulla natura di amore al dominio teorico dell'averroismo, annunciata da Bruno Nardi in un memorabile saggio del 1941, l'averroismo del primo amico di Dante, e oggi generalmente accolta dagli studiosi, appartiene innegabilmente a quel genere di proposte storiografiche capaci di mutare radicalmente la nostra percezione di un dato fenomeno. In conseguenza della proposta nardiana, un capitolo tra i più avvincenti e più ingarbugliati, bisogna dire, della storia letteraria italiana del 200, quello idealmente intitolabile ai rapporti tra Dante e Cavalcanti, è stato riscritto da cima a fondo. In effetti quella scoperta ha consentito agli studiosi non solo di precisare filosoficamente, cioè come adesione ad un preciso orientamento filosofico, all'averroismo appunto, la generica miscredenza di Guido rilevata già nelle fonti trecentesche, ad esempio da Boccaccio, di cui avete trascritta nell'Hand Out, la famosa novella cavalcantiana, e di illuminare la cornice dottrinale entro la quale è contenuta la rappresentazione dolente e angosciata dell'amore che emerge dalle sue liriche. Non soltanto questo, ma ha offerto la possibilità di sciogliere l'enigma del dissenso che a un certo punto vediamo prodursi tra Dante e il suo primo amico, destinatario, lo ricordiamo, della vita nuova. Se l'esistenza di questo dissidio è provata da poche ma esplicite tracce documentarie culminanti nel decimo dell'inferno, l'essenza di esso a voler giocare con una distinzione cara ai pensatori medievali ci è viceversa ignota, giacché quegli stessi documenti che dichiarano la crisi del sodalizio mostrano, a seconda dei casi, in merito alle ragioni che lo produssero, o un'assoluta reticenza, è il caso del sonetto da Cavalcanti indirizzato a Dante, Ivegno il giorno a te infinite volte, o un'insuperabile ambiguità, è il caso del misterioso oggetto del disdegno di Guido in Inferno X, che come ci ha ricordato ieri Luca Fiorentini, la totalità o quasi totalità degli esegeti trecenteschi riferisce a Virgilio in quanto rappresentante per così dire della poesia in generale o della poesia latina classica. nello specifico. La proposta di Nardi, non c'è dubbio, ha fornito un'utile chiave interpretativa per colmare questo vuoto. Assumendo l'averroismo di Cavalcanti, il contrasto tra Dante e il suo primo amico diviene leggibile come un contrasto di natura ideologica, prima che poetica, determinato dal graduale ma inesorabile allontanamento di Dante dall'orizzonte filosofico dell'amico, incompatibile con l'idea cristiana della salvezza e dal contestuale approdo ad una concezione per così dire spiritualistica dell'amore, tanto fiduciosa circa la possibilità di sottomettere la passione amorosa al consiglio della ragione, valorizzando al massimo grado la nozione aristotelica di virtù come desiderio ragionevole, quanto quella cavalcantiana basata sulla psicologia averroista, di questa possibilità rappresentava invece la dolorosa negazione. In ciò Nardi vedeva confermata, si aggiunga, l'intuizione che era la base già della tesi lovaniense del 1911, ricordata ieri da Fioravanti, Sigeri di Brabante e il problema delle fonti della Divina Commedia. L'idea, ovvero, che lungi dall'essere un compendio di tesi tommasiane, come pretendeva la vulgata neotomistica, un nome su tutti Gian Maria Cornoldi, il pensiero di Dante si fosse alimentato piuttosto del contatto con orientamenti filosofici eterogenei, con larghe concessioni all'aristotelismo arabo, i quali, dopo essersi fronteggiati in un difficile e instabile rapporto dialettico nelle opere cosiddette minori, de vulgari eloquenzia, convivio e monarchia, avevano trovato infine una sintesi e un accordo nel poema sacro, con il quale ogni precedente elemento eterodosso poteva dirsi al contempo riassorbito e oltrepassato nel quadro di una filosofia autenticamente cristiana, così la definiva Nardi. In questo grandioso affresco storiografico l'averroismo del primo amico si inseriva a perfezione, venendo a confermare sul piano biografico e quasi incarnata nel vivo di un sodalizio umano e intellettuale, la disponibilità di Dante a misurarsi con le zone più inquiete e più avventurose dell'aristotelismo medievale, incluso appunto l'averroismo, la cui importanza per la propria formazione intellettuale, ben visibile in un'opera come la monarchia, egli, Dante, non aveva mancato di riconoscere nella Commedia, attraverso l'omaggio reso a Sigeli di Brabante, cioè ad un averroista latino, nel decimo del Paradiso. Non è nostra intenzione discutere globalmente in questa sede lo schema interpretativo proposto da Nardi. Ci preme piuttosto sottolineare l'impatto che la tesi dell'averroismo di Cavalcanti, che come dicevamo è generalmente condivisa dagli studiosi, ha avuto sull'esegesi di due luoghi della Commedia, nel leggere e nel commentare i quali sembra ormai impossibile in effetti prescindere da quella tesi. Il primo di questi luoghi è naturalmente il canto decimo dell'Inferno, nel quale, come sappiamo, Dante e Virgilio attraversano, giungono e attraversano il sesto cerchio, il primo entro le mura di dite. Qui si trovano le anime degli eretici, le cui sagome aeree vediamo levarsi da arche sepolcrali arroventate. Il cerchio è come un enorme cimitero diviso in distretti ereticali. Nel settore di Epicuro e Seguaci, che l'anima col corpo morta fanno, verso 15, un verso che dipende, come rilevano tutti i commentatori, da una chiosa di Servio a Virgilio, Dante incontra il grande capoparte ghibellino Farinata degli Uberti e presso costui Cavalcante dei Cavalcanti, il padre di Guido, con il quale ha un fulminio e drammatico scambio di battute. È drammatico perché dalle parole di Dante, che si riferisce all'amico usando il passato remoto Ebbe, Cavalcanti deduce erroneamente che il figlio sia morto, come tutti ricordiamo. Il secondo luogo del poema nel quale si ritiene a leggi il fantasma di Guido Averruista è nel canto venticinquesimo del Purgatorio, versi 61-66, laddove per bocca di Stazio Dante respinge come erronea la dottrina di Averroè sulla separazione sostanziale dell'intelletto possibile. Relativamente al canto decimo dell'Inferno, usuale nelle chiose, è intendere la condanna di Cavalcante dei Cavalcanti tra gli eretici come figura della medesima condanna riservata al figlio Guido, seguace di una filosofia, quella Averruista, come sarebbe attestato da Donna Meprega, che negando la sopravvivenza dell'anima individuale dopo la morte, riproporrebbe di fatto la dottrina degli epicurei, cioè coloro che l'anima col corpo morta fanno. Esemplare di questa visione, che potremmo dire appunto, che trova concorda gli esegueti di questo canto, è una pagina della lettura che a Inferno X ha dedicato di recente un ottimo, eccellente studioso di cose dantesche, Luca Azzetta, in un saggio ricco di motivi e di spunti. Ecco cosa scrive Azzetta a tale proposito. Andrà ricordato che la mortalità dell'anima, tratto distintivo degli epicurei danteschi, era condivisa dalla corrente filosofica che andava sotto il nome di aristotelismo radicale e che aveva i suoi capofila nei maestri parigini Boezio di Dacia e Sigeli di Brabante. Sulla scorta di Averroè si sostenevano l'esistenza di un intelletto possibile, sostanza separata, universale e unica per l'intera specie umana, negando di conseguenza l'immortalità dell'anima individuale. Individuale infatti restava l'anima sensitiva, forma e perfezione del corpo, destinata tuttavia a perire con esso. Quando l'aristotelismo radicale venne condannato il 7 marzo 1277 dal vescovo di Parigi, Stefano Tompié, tra le 219 proposizioni giudicate eterodosse figuravano anche le seguenti, quod non est curandum de sepultura, quod anima separata, nullo modo patitur abigne. Alla luce di questa condanna prosegue Azzetta, che coinvolse la filosofia a cui aderì Guido Cavalcanti con la canzone Donna me prega, e che in un certo momento della vita affascinò anche Dante, la pena del sepolcro e del fuoco attribuita agli eretici e soprattutto agli epicurei, la cui opinione coincide con quella degli averroisti, questo è un punto che dobbiamo ritenere perché è un punto importante, sul quale torneremo brevemente, si carica di un significato ulteriore e mostra come il dibattito filosofico incentrato sulle tesi proprie dell'aristotelismo radicale, dovette influenzare l'immaginario dantesco nella creazione di questo cimitero infernale, fine della citazione. Non interessa ora rilevare le inesattezze presenti in questo discorso, quanto piuttosto coglierne il messaggio essenziale. Ponendo Cavalcante dei Cavalcanti tra gli avelli infuocati degli epicurei, Dante vuole dirci a Zetta, ma che nel caso specifico non fa che ripetere l'opinione corrente, ha inteso suggerire che alla medesima condanna è destinato dopo la morte, avvenuta nell'agosto del 300, il figlio di lui Guido, per avere aderito a una setta filosofica l'averroismo che come l'epicurea negava l'immortalità dell'anima. Insomma, una volta proiettata su Cavalcante l'ombra di Guido e sull'epicureismo l'ombra dell'averroismo, e assumendo al contempo per buona la lettura nardiana di Donna Meprega, ecco prendere corpo sotto i nostri occhi ciò che nel testo a prima vista non c'è, vale a dire la riprovazione morale con conseguente giudizio divino dell'averroismo del primo amico. Analoga riprovazione sarebbe da cogliersi, come si diceva, nei versi 61 e seguenti, che avete nell'end out, del canto venticinquesimo del Purgatorio, con i quali Stazio definisce erronea la posizione di Averroè sulla separazione sostanziale e sull'unicità dell'intelletto possibile e che darebbero a Dante l'occasione per tornare a polemizzare, stavolta in forma del tutto implicita, con l'autore di Donna Meprega. Ma come d'animal di Vegnafante non vedi tu ancora, questo è tal punto che più savio di te fe' già errante, sicché per sua dottrina fe' digiunto dall'anima il possibile intelletto, versi che abbiamo ascoltato, perché da lui non vide organo assunto, versi che abbiamo ascoltato anche ieri nella relazione di Luca Fiorentini. Inutile anche qui ripercorrere le varie chiose, che sul punto si somigliano peraltro l'una con l'altra. Valga per tutte la sobria ma esplicita nota del locum di Giorgio Inglese. La riprovazione di Averroè tocca, dice Inglese, anche Guido Cavalcanti, che aveva echeggiato la tesi averroistica nella canzone filosofica Donna Meprega, così nel commento al Purgatorio. Se si accoglie questa lettura, del resto maggioritaria nei commenti e se la si affianca a quella surricordata di Inferno Decimo, la conclusione non può che essere una. In quanto autore di una canzone averroista, Donna Meprega, Guido Cavalcanti sarebbe oggetto da parte del suo antico sodale compagno di esaltanti avventure poetiche e intellettuali di una duplice condagna. Morale, e dunque più grave nel Decimo dell'Inferno, nella misura in cui si postuli che valga per Dante la coincidenza tra averroismo e eresia epicurea, distruzione dell'anima insieme con la distruzione del corpo, ma questo, come dicevamo, è da vedere, e filosofica nel venticinquesimo del Purgatorio, nella misura in cui la dottrina averroista dell'intelletto unico e separato, e cheggiata in Donna Meprega, è lì respinta invece come erronea, ossia filosoficamente inaccettabile. Ora, se si analizza il modo in cui questa versione della ferca Valcanti-Dante è costruita, è facile constatare che essa si regge essenzialmente su un'unica premessa, negando la quale una simile ricostruzione sarebbe di colpo, se non annientata, messa seriamente in discussione. Tale premessa, come dichiarato all'inizio, è che Donna Meprega sia un testo sicuramente averroista, un testo cioè nel quale siano contenute evidenti tracce di una psicologia, di una noetica, riconducibili al pensiero di Averroè e dei suoi seguaci latini. Questo è ciò che Bruno Nardi ha voluto dimostrare e, muovendosi in questa direzione, scortato dal commento di Dino del Garbo, è giunto a proporre una lettura organica e coerente della canzone, nella quale tutti gli elementi dubbi e le numerose aporie del testo, letti in chiave averroista, sembrano ricevere una sistemazione adeguata. Non vogliamo, non è nostra intenzione, smentire la lettura di Nardi e del resto sarebbe difficile farlo. E non tanto perché tale lettura sia intrinsecamente e oggettivamente invulnerabile, sebbene rimanca la più intelligente e sensata tra quelle proposte e non a caso accolta dagli esegeti più sensibili della canzone, fancy e inglese. Ma perché i tre versi, su un totale di 75, sui quali si regge l'interpretazione averruista di Donna Meprega, sono così sfuggenti, sintatticamente e concettualmente, da togliere sicurezza a qualsiasi interprete. Per quanto dunque non confutabile, fino in fondo, riteniamo che tuttavia che la proposta di Nardi possa e anzi debba essere messa in discussione e a limite revocata in dubbio, il che non vuol dire vada se dichiarata falsa o erronea, qualora si dimostri, come proveremo a fare ora, che i due versi in questione sostengono senza sforzo una lettura alternativa, non averruista, a quella nardiana e non di meno pensiamo, egualmente plausibile. La canzone, come sa chiunque si sia confrontato con il suo testo, è una sorta di scatola dei sette sigilli tali e tanti sono i passaggi oscuri, enigmatici e impervi, anche per l'incertezza delle lezioni, che essa oppone all'interprete. Andiamo subito dunque, senza soffermarci sul resto, ai versi 29-31, la cui interpretazione è decisiva per decifrare l'accordo filosofico fondamentale sul quale è costruita la partitura dottrinaria della canzone. Di là da questo solo passaggio, la canzone si limita in effetti a rispecchiare per lo più, sebbene in una forma spesso ingarbugliata ed ellittica, nozioni comuni della scienza medica del tempo, per quel che concerne ad esempio l'eziologia della passione amorosa e gli effetti che essa provoca sull'amante, o della psicologia aristotelica, l'irriducibilità dell'intelletto al senso, quando non si risolve retoricamente nella riproposizione di veri e propri luoghi comuni della lirica amorosa cortese. Tale è ad esempio il tradizionalissimo onesso, rilevato al verso 70, tra pene d'amore e mercede, cioè la ricompensa che spetta all'amante. Premesso ciò, leggiamo senz'altro i tre versi che conterrebbero la dichiarazione di fede a verruista da parte di Guido, e che sono i versi con i quali si apre la terza stanza della canzone che voi avete riprodotta. Faccio riferimento all'edizione inglese, anche se nel caso specifico non si hanno nei manoscritti lezioni a diafore o controverse, sicché il testo è lo stesso di fatto, al di là della punteggiatura, nelle varie edizioni. Non è vertute, ma da quella vene, che è perfezione, che se pone tale, non razionale, ma che sente, dico. I tre versi, cominciamo col dire, rispondono alla terza delle questioni de'amore, alle quali Cavalcanti si impegna a rispondere nella prima stanza della canzone, ovvero quale sia la virtù di amore, qualsia sua vertute. Così al verso 11, quando Cavalcanti dà un po' la tavola delle questioni che affronterà nella canzone. A questo interrogativo Guido risponde evidentemente con un sottile gioco verbale. L'amore, egli dice, non è una vertute, non è cioè una facoltà, e ciò non di meno, pur non essendo una vertu, ossia un principio in sé di operazione, procede da una vertu, ma da quella vene. Questo è quel che si dice al verso 29, il cui senso è tutto sommato. Chiaro, Guido sta dicendo insomma che amore non è una particolare vertu o facoltà dell'anima, come ha parafrasato ottimamente fancy, benché sia il prodotto, diciamo così, di una virtù o facoltà dell'anima. Più oscuro e controverso è il significato dei versi 30 e 31, e non a caso è nelle pieghe di questa oscurità che ha preso corpo la tesi dell'averruismo di Guido. Ma andiamo con ordine. I versi 30 e 31 definiscono la virtù dalla quale amore procede attraverso una perifrasi, che sventuratamente complica le cose anziché chiarirle. La virtù di cui si tratta, afferma Guido, è perfezione, che se pone tale, non razionale, ma che sente, dico. Intenderei così, mi limito per ora a dare la parafrasi dei versi per quanto larga. pur non essendo una facoltà dell'anima, amore viene da quella facoltà che si considera generalmente la più alta, che è perfezione, delle facoltà dell'anima. Non mi riferisco all'anima razionale, non voglio riferirmi all'anima razionale, le cui facoltà, facoltà sopreme sono intelletto e volontà, bensì all'anima sensitiva. Ho attenzione ad essere precisi su un punto. Cavalcanti dice che l'amore è il prodotto di una virtù, ossia di una facoltà dell'anima sensitiva, e ha origine da essa, e non, come suggeriscono taluni interpreti, che l'amore viene dall'anima sensitiva. Semplificando così, amore non è una facoltà dell'anima, ma viene da quella perfezione che è l'anima sensitiva. Il verso 29, che risponde al quesito amore è o non è una virtù dell'anima, è costruito, come si è detto, su una sorta di gioco di parole. Amore non è virtù, ma procede da una virtù, quindi questo esclude che si possa intendere nell'altro modo. Data dunque una parafrasi letterale dei versi, resta da capire quale sia in concreto la virtù o facoltà alla quale cavalcanti sta facendo riferimento, e che cosa significhi propriamente che tale virtù, come generalmente si concede, si pone, è perfezione non razionale ma che sente. Scartate le interpretazioni aberranti, favati e corti, superficiali e male argomentate, pappalardo, o stravaganti, casella calcaterra, che qui non abbiamo il tempo di discutere ma che sono molto interessanti, sarebbe interessante discutere, concentriamoci sull'interpretazione nardiana dei due versi, ripresa nei migliori e più puntuali commenti alla canzone oggi a disposizione, cioè a dire Savona, Fensi, il più ricco completo e inglese. Questa interpretazione ha avuto il merito indiscusso di identificare correttamente la particolare facoltà alla quale cavalcanti allude attraverso la perifrasi che abbiamo visto. Questa virtù sui giuri scenardi è quel senso interno di cui parlano i filosofi arabi che va sotto il nome di viscogitativa, estimativa nei bruti e che rappresenta il grado più elevato e astratto di conoscenza sensibile, dunque particolare, conseguibile dall'uomo. A questa conclusione Nardi giunge a partire da due dati incontrovertibili. Nella seconda stanza della canzone Cavalcanti dice uno che amore risiede là dove sta memoria, in quella parte dove sta memoria, prende suo stato, versi 14 e 15, ossia nell'anima sensitiva, e due che esso nasce da veduta forma che si intende, che non può significare altro che amore nasce da una forma esteriore, percepita attraverso la vista, la quale, sottoposta all'azione levigante dei sensi interni, si affina in un'immagine viva e tuttavia impalpabile l'intenzio, alla quale la memoria dell'amante si volge ossessivamente, ridestando così il complesso di sensazioni psicofisiche prodotte dalla percezione visiva che ha innescato il meccanismo, ma prescindendo ormai dalla presenza fisica dell'oggetto in carne ed ossa, la donna di cui quell'immagine è la proiezione fantastica, il fantasma. In effetti, se ammettiamo che l'amore è percavalcanti, come gli dice un prodotto dei sensi interni, e come tale si insedia, prende suo stato nell'anima sensitiva, non si vede che altro dovrebbe essere la facoltà che i versi 29 e 31 indicano come quella da cui l'amore vene, se non la virtù cogitativa, o come ipotizza Nardi il complesso dei quattro sensi interni, senso comune, memoria, fantasia o immaginazione e cogitativa, o estimativa, tradizionalmente considerata l'apice delle facoltà dell'anima sensitiva. Fin qui l'analisi nardiana non può che trovarci d'accordo e l'identificazione della vertute dalla quale amore, pur non essendo una vertute, procede, con la cogitativa degli arabi o in generale con il complesso dei sensi interni, rappresenta un contributo preziosissimo all'intelligenza della canzone, in uno dei suoi passaggi sintatticamente e concettualmente più ardui e delicati. Non così condivisibile, invece, ci appare la conclusione che Nardi trae da questa identificazione, onde dimostrare l'adesione di Guido all'averruismo. Lasciamo direttamente la parola al grande maestro, che nella noterella polemica sull'averruismo di Guido Cavalcanti del 1954, un saggio, se vogliamo, ancora più acuto rispetto al saggio sull'averruismo del primo amico di Dante, riassume la questione in polemica con il Favati, che versi davano una lettura tutta atomistica. Per Averroè, scrive Nardi, forma e perfezione del corpo umano e dell'uomo è la cogitativa o intellettopos passibile, perché peristum intellectum quen vocat Aristoteles passibilem differt homo abalis animalibus. Invece l'intelletto possibile non è neque corpus, neque virtus incorpore, ma è una sostanza separata, unica per tutta la specie umana, la quale si unisce nell'atto dell'intendere. E anche per gli averruisti della corrente sigeriana, qui c'è l'eco di posizione, no? Attualmente superate, l'anima razionale risulta composta di due parti sostanzialmente diverse. La prima è quella vegetativa o sensitiva, che dice si cogitativa o intelletto passibile. La seconda parte è l'intelletto possibile. La prima è tratta dalla potenza della materia ed è generabile e incorruttibile, la seconda al contrario è ingenerabile e incorruttibile, ossia è eterna. La prima è veramente forma sostanziale e perfezione del corpo umano e per essa l'uomo si differenzia dagli altri animali, in quanto la cogitativa tende a unirsi all'intelletto possibile nell'atto dell'intendere, ciò che negli altri animali non accade. L'intelletto possibile invece in se stesso ha una sostanza separata e può dirsi forma, se vogliamo, non nel senso in cui è forma la cogitativa, ma in senso equivoco, come dice Averroè, e non in senso univoco, come pensa Tommaso. Ora, e queste sono le parole che più ci interessano, Cavalcanti dice proprio questo, l'amore non è facoltà dell'anima, ma deriva da quella facoltà, la cogitativa, che è forma e perfezione sostanziale del corpo umano come si ritiene appunto dagli averroisti e non da quella parte razionale che forma e perfezione non è secondo gli stessi averroisti. Pagina 69 dell'articolo citato. La parapresi dei versi 29 e 31 proposta da Nardi, obiettivamente corretta nella prima parte, l'amore non è una facoltà dell'anima, ma deriva da quella facoltà, eccetera, contiene a mio avviso una forzatura nella seconda parte, laddove a cogitativa si fanno seguire le parole che abbiamo letto, cioè la quale è forma e perfezione sostanziale del corpo umano, come si ritiene dagli averroisti e non da quella parte razionale che forma e perfezione non è, eccetera. Non mi pare che i versi, per quanto complessi, si spingano a tanto. Cavalcanti si limita ad affermare, salvo errore, che la cogitativa o la fantasia o l'immaginazione, perché non ne nomina esplicitamente una virtù, è la più nobile, è la più alta delle facoltà dell'anima sensitiva. Attraverso i sensi interni, l'anima sensitiva tocca, infatti, il culmine della propria potenza operativa. E se l'amore è opera di queste facoltà, vuol dire allora che esso non è un prodotto spirituale, non deriva, cioè, da quelle potenze, intelletto e volontà del tutto immateriali, nell'esercizio delle quali l'anima razionale perfeziona se stessa. La distinzione tra perfezione che sente e perfezione razionale posta da Cavalcanti mi sembra, insomma, che sia funzionale a tenere distinte le facoltà più perfette dell'anima sensitiva, dalle quali l'amore appunto deriva, o che per meglio dire, innescano il processo psicologico da cui scaturisce la passione amorosa, e le facoltà dell'anima razionale, intelletto e volontà, che non interferiscono invece con la genesi di tale processo, né in vero con nessuno dei suoi momenti. Che la cogitativa e, in generale, i sensi interni rappresentino la parte più alta dell'anima sensitiva e dunque possano ben dirsi la perfezione di quella, è del resto una tesi piuttosto diffusa tra i maestri, la quale di per sé non implica alcuna adesione alla dottrina verruista dell'intelletto unico e separato. Come tale essa fa parte, più banalmente, di quelle dottrine che gli scolastici latini ereditano dalla psicologia degli arabi e che essi non hanno difficoltà ad accogliere e a riprodurre nei loro scritti, sia pure con diverse sfumature. Prezioso, in merito a ciò, è il censimento di luoghi fornito da Theodor Köhler nel tomo secondo di quella che è una vera e propria miniera per le nostre ricerche, intendo dire Homo animal nobilissimum, da cui provengono gli esempi che voi avete riprodotti nel testo, ad esempio Riccardo Rufo, De Anima, immaginatio que est ultima virtus sensitiva, magis terminata et magis perfetta, Adamo di Bockfeld, immaginatio que est ultima virtus sensitiva, perfectio rest et magis determinati nomine quaminalis animalibus, Ugo di San Vittore, visi immaginanti in tantum sublime est, utquiquid supra illud est aliudum sitquam ratio, immaginativa est domina super omnes virtutes sensitivas, ed ec fantasia quam quidam vocant cogitativam quest libera in sonno, ed ec est nobilissima inter omnes alias sensitivas. Oppure un'anonimo questioni super de anima di un manoscritto di Oxford, sensitiva secundum aliquam sui potentiam saltim supremam in nominam attingit infimum ipsi intellettive, et illa virtus sensitiva, suprema in nomine est virtus cogitativa. Alle voci indistinte di questi maestri, spesso anonimi, si unisce quella ben riconoscibile e più robusta di Alberto Magno, che in un passaggio del commento al de anima, edizione Stroic, pagina 157, identificando fantasia e cogitativa, afferma appunto fantasia autem ab apparizione dicta est quoniam illa est maior cognizio quam abet anima sensibilis et est ultimum virtuti seius et ec avulgui nominibus vocatur cogitativa, cum tamen proprie cogitare esiterationis, eccetera. Di un culmine, cioè supremum della potenza sensitiva dell'uomo parla anche Tommaso e lo identifica, non diversamente dai suoi predecessori e sulla cia di Evicene Averroè, con la vis cogitativa o ratio particularis, così nella sentenza libri de anima non leggo il testo, no? Qui a vis sensitiva in sui supremo participa taliquide di vita intellettiva, eccetera. In tutti questi testi, ma altri se ne potrebbero aggiungere, si rifletta all'incirca il medesimo insegnamento, e cioè che la potenza sensitiva dell'uomo è perfezionata dall'attività di un senso interno che alcuni maestri identificano senz'altro con la fantasia o immaginazione, altri con la cogitativa, altri ancora, è il caso di Alberto, come si è visto, non distinguono invece tra i due sensi, tra i quali ritengono sussistere una differenza puramente terminologica. In nessuno dei maestri citati, tuttavia, il riferimento ad una simile dottrina di ascendenza araba implica la minima adesione alla tesi averroista della cogitativa come forma e perfezione sostanziale del corpo umano. Per costoro la cogitativa, o poniamo la fantasia, rappresenta solo il grado più alto della potenza sensitiva, sicché tale perfezione non nega e non contraddice l'esistenza di una perfezione maggiore, la perfezione della ragione, conseguibile attraverso le opere dell'intelletto e della volontà. Nulla si oppone a che questo sia anche il senso dei tre versi cavalcantiani, i quali pertanto, limitandosi a riferire una dottrina assai diffusa tra i maestri, non avrebbero in sé nulla di specificamente averroista. Per piegarli in tale direzione, Nardi si trova infatti obbligato a supporre che le due perfezioni di cui parla Cavalcanti, la perfezione che sente e la perfezione razionale, si riferiscano l'una alla perfezione autentica dell'individuo, la cogitativa, che è forma sostanziale del composto, e l'altra alla perfezione dell'uomo in senso equivoco, vale a dire all'intelletto, che dunque non è la perfezione dell'individuo, ma in questo modo si introduce una distinzione tecnica che a rigore non mi pare ci sia. Questa forzatura può essere evitata senza danni per il senso generale della canzone e mantenendo l'identificazione della perfezione che sente con la cogitativa o con altro senso interno proposta da Nardi, accogliendo la spiegazione, se vogliamo più lineare, suggerita dai testi menzionati. Riassumo e concludo. Non è virtute ma da quella bene che è perfezione che se pone tale, non razionale, ma che sente dico. Alla luce di quanto siamo venuti dicendo fin qui, questi versi dovrebbero significare all'incirca. L'amore non è una virtù dell'anima e tuttavia deriva da quella virtù, la cogitativa o fantasia o altro senso, che è e si considera generalmente perfezione della nostra potenza, non della potenza razionale, bensì, voglio dire, della potenza sensitiva. Se questo fosse il significato dei versi 29 e 31, come tutto sommato a noi sembra plausibile, l'edificio dell'averroismo di Guido vacillerebbe dal momento che la possibilità di intendere altri luoghi della canzone in chiave averruista, si fonda unicamente sull'assunzione che questi versi, enunciando che la sola perfezione dell'individuo è nell'anima sensitiva, implichino la dottrina dell'intelletto possibile, unico e separato. Ma se Donna me prega non è una canzone averruista, e se averruista non è il suo autore, appassionato di filosofia e di scienza della natura quanto si vuole, ma non averruista, come si devono leggere allora i due luoghi della commedia, Inferno X e Purgatorio XXV, che si è soliti intendere alla luce, ormai alla luce dell'averroismo di Guido. Senza entrare nel merito della questione, che richiederebbe un'analisi estesa, si può rispondere a questo interrogativo con poche battute. Per quel che riguarda Inferno X, si dovrà riconoscere che Cavalcanti è atteso tra gli eretici del sesto cerchio, non per aver creduto all'intelletto unico, ma per aver ritenuto come il padre Cavalcanti, che l'anima muoia con la morte del corpo. In altre parole, per aver professato una filosofia di orientamento materialista, volgarmente definibile come epicureismo, e più vicina, semmai, alle posizioni di un Alessandro di Afrodisia, con le quali Averroè polemizza duramente, aspramente, come rilevano tutte le fonti, Alexander autem peripateticus grecus solus inter philosophos animam razionalem concredit perire per eunte corpore. Così Alberto, nel De Natura d'origine anime, passo che è stato richiamato ieri, e si ricorda inoltre nel De Anima, sempre Alberto, ricorda la lotta di Averroè contro il campione del materialismo. Alessandro, dal quale ex dicto eius anima perire, sequitur animam perire cum corpore, dice di Alessandro. E ancora, falsum est quod dixerunt epicurei, intellectum extingui, corpore extinto, eo quod incipitesse cum corpore, dove si dimostra che per, diciamo, Alberto, nella dossografia di Alberto, Alessandro di Afrodisia, è riconducibile alla filosofia di Epicuro, al materialismo epicureo. Ma non c'è nelle fonti, e l'ho approvato anche Fiorentini nella bella relazione di ieri, non mi pare si identifichi mai epicureismo e averroismo, se non in alcuni testi della propaganda anti-ghibellina, che mi pare difficile Dante possa aver accolto. Quanto invece, di più, scusate, il testo non dice e non autorizza a dire, ma questo poco è tuttavia sufficiente ad avere un'idea della distanza intellettuale che a un certo punto separò Dante dal suo primo amico. Quanto invece alla riprovazione della dottrina verruista dell'intelletto nel venticinquesimo del Purgatorio, essa deve valere per quello che è. È la dichiarazione, peraltro, assai riguardosa, averroè, è detto da Stazio, savio, più savio di te, e non dimentichiamo che egli è con Aristotele e altri sapienti, tra gli spiriti magni del limbo, che quella tesi, dicevo la dichiarazione, che quella tesi filosofica non è conforme alla verità. La polemica non implicherebbe, tuttavia, se è giusta la nostra ricostruzione, la canzone di Guido, di solito tirata in ballo dagli esegeti di questi versi, e non è mancato chi ha preteso di ravvisare nell'espressione possibile intelletto del verso 65, una esplicita citazione del verso 22 della canzone cavalcantiana, che prende nel possibile intelletto, eccetera, cosa che è discutibile per il fatto che l'espressione possibile intelletto è necessaria in entrambi i contesti e non prova nessuna congiunzione tra i due, nessuna intertestualità tra Purgatorio 25 e Donna me prega. La riprovazione staziana, ammesso che si tratti di una riprovazione, colpisce dunque averroè e non tocca Guido, che averroista non fu, o diciamo più cautamente, potrebbe non essere mai stato averroista. Si obietterà anche in tal modo le ragioni del disdegno di Guido e della sua rottura con Dante, che ci siamo ormai abituati a connettere alla fede averroista dell'autore di Donna me prega, retrocedono nuovamente alla generica indistinta incompatibilità tra un orientamento cristiano, tutto proiettato verso il destino oltremondano dell'uomo, e un orientamento materialista, se non ateo, come rileva Registra Boccaccio nella sua novella, ripiegato nella considerazione della vita terrena. Ma questo può essere una perdita unicamente per chi sia convinto che compito dell'interprete sia quello di spiegare tutto e di capire tutto, e non, come è invece giusto che sia, spiegare fin dove è possibile spiegare, capire fin dove è possibile capire. Grazie. 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 Grazie.